Buonasera a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. In questo telegiornale cercheremo di fare un po' il riassunto di quanto è accaduto oggi, ovviamente, fino a questo momento. Intanto ci facciamo aiutare dai titoli delle principali notizie. Anche nel Pistudese quest'anno la vendemmia è stata anticipata al caldo di giugno e luglio. Hanno fatto registrare la precoce maturazione delle uve. Il clima di agosto ha fatto il resto per la qualità dei vini, comunque le aspettative sono buone. Funivia tra spese folli e fretta sospetta. Arrivano nuove critiche dal comitato. Un altro appennino è possibile contrare la costruzione dell'impianta fune che dovrebbe collegare la doganaccia al corno alle scale. Anche Confartigianato Pistoia conferma i dati sul caldo degli artigiani un po' ovunque. La provincia di Pistoia ha il sedicesimo posto in Italia per aziende artigiane perse negli ultimi 11 anni. Straordinario traguardo quello raggiunto dalla Sagra di Mezza Estate a Cutigliano che festeggia 50 anni di vita. Questo conferma dell'importanza che la manifestazione ha per la comunità montana. Via le amichevoli precampionato per quanto riguarda l'estra Pistoia. Il primo test ufficiale è in programma sabato prossimo. Palamacchia ore 19 contro la Libertas Livorno. Neopromossa in A2 TVL trasmetterà la partita in diretta. Vediamo a che punto è la vendemmia che quest'anno è stata anticipata a causa di diversi fattori. Anche per quest'annata vendemmia anticipata e buone aspettative per i vini 2024. Il caldo di giugno e luglio ha anticipato la maturazione delle uve, poi bloccata dal caldo eccessivo e della poca umidità di agosto. Ma è anche vero che i viticoltori debbano fare conti ognuno con la propria rendita produttiva, su cui incidono vari fattori. Ormai è una cosa che si ripete già da diversi anni e queste temperature particolarmente alte ci invitano ad anticipare le vendemmie ottenendo magari in alcune zone, in alcuni vigneti una vendemmia un pochino più scarsa rispetto al normale ma sicuramente più carica a livello zuccherino e appunto a livello anche alcolico. Effettivamente siamo in anticipo di qualche, fuori di una settimana più o meno sull'andamento generale di tutti gli anni. Effettivamente ogni anno vi sta aumentando il caldo quindi rispetto agli anni passati è un'anticipazione sulla vendemmia. Questo che cosa comporta? Dover riorganizzare un po' i tempi di vendemmia proprio perché già i tempi di raccolta devono essere più brevi cercare di mantenere sempre una qualità abbastanza alta e sicuramente cercare di, c'è un aumento del grado generale dei vini quindi bisogna lavorare in maniera un po' diversa sia in campagna che in cantina. Il forte aumento di temperature fa soffrire sì un pochino di più la pianta ma riesce a tirare fuori delle caratteristiche veramente particolari ad esempio il nostro Cabernet diventa ancora più potente e più carico di minerali. I vini bianchi questo aumento di temperatura non è una cosa che diciamo gli piace molto perché c'è proprio un alzamento del grado alcolico cosa che magari nei vini bianchi non è proprio indicata. Accentano la parte zuccherina e quindi vanno ad aumentare quello che è alla fine il grado alcolico ed alcuni sentori che fanno parte delle morbidezze del vino. Che vino consiglieresti a un telespettatore per questa stagione? Sicuramente un bianco rosato vanno sempre bene, freschi sicuramente il periodo ce lo consente ancora di berli. Eventualmente un vino rosso senza solfiti aggiunti che al secondo anno che lo produciamo è una gradazione un pochino più bassa, un'acidità un pochino più spiccata e che può essere bevuto anche un pochino più fresco. Il nostro Cecconi ha fatto un giro fra varie aziende e nelle prossime edizioni del giornale ne vedremo altre. Intanto andiamo in montagna per le critiche, il dibattito che c'è sulla nuova funivia, critiche in questo caso da un altro appennino è possibile il comitato. Funivia traspese foglie e fretta sospetta. Inizia così il comunicato stampa del comitato. Un altro appennino è possibile, contrario alla costruzione dell'impianto a fune che dovrebbe collegare la doganaccia al corno alle scale. In due mesi, si legge ancora nella nota, sono stati spesi 265 mila euro di denaro pubblico quando le strade sono una buca continua, il trasporto pubblico è stato tagliato, l'erba invade le strade e i consigli comunali sono tenuti fuori da ogni decisione. Il comitato antifunivia evidenzia come fra giugno e luglio scorsi la provincia di Pistoia ha accelerato i tempi con forte spesa di denaro pubblico. Si tratta di cinque determine adottate in poche settimane da funzionari dell'ente provinciale. La prima, 6.500 euro, per uno studio acustico con supporto giuridico. La seconda, 71 mila euro, per uno studio ambientale. La terza, 175 mila euro, per revisionare un precedente studio di fattibilità. La quarta, per convocare in pochissimi giorni la conferenza dei servizi. E la quinta, quasi 12 mila euro, per un incarico legale di assistenza stragiudiziale a supporto della procedura di approvazione del progetto e della gara. È purtroppo evidente, si legge ancora nel comunicato, che la provincia di Pistoia, per compiacere su questo progetto il decisore regionale, è molto attiva. Purtroppo lo è assai meno su tanti altri aspetti che interessano assai più l'intero territorio della montagna e la vita quotidiana dei suoi abitanti. I lavori annunciati sulla tangenziale est a Pistoia, con una chiusura a tratti totale della strada e un'incertezza generalizzata sui tempi necessari per concludere le opere, rischiano di tramutarsi in un danno concreto per tutto il tessuto economico cittadino. Serve una strategia condivisa per evitare questo scenario. Lo dice Confcommercio Pistoia e Prato, prendendo posizione in un dibattito che desta già profonda preoccupazione diffusa. Con la chiusura totale in autunno e dei due sensi di marcia, seppur in giorni non consecutivi, verrebbe meno una delle principali arterie di ingresso e deflusso alla città, con conseguente caos della circolazione. Accanto a questo, l'assenza di un cronoprogramma certo per le opere aumenta incognite già pesanti che interesseranno trasversalmente residenti, commercianti e visitatori. Torniamo a parlare del calo degli artigiani in Italia. Nei giorni scorsi vi abbiamo dato un po' i risultati di una indagine. Ci ritorniamo parlando del territorio pistoiese, grazie a Confartigianato. Anche Confartigianato è intervenuta sul dato allarmante che riguarda il calo delle imprese artigiane in Toscana negli ultimi 11 anni. In questa classifica Pistoia è il sedicesimo posto, seconda in Toscana dopo Lucca, con 10.498 imprese artigiane attuali contro le 14.395 di 11 anni fa, pari ad una diminuzione del 27%. Se questa tendenza non sarà invertita stabilmente, non è da escludere che entro una decina di anni sarà molto difficile trovare un artigiano. È un dato che come associazione abbiamo spesso denunciato e questa non è altro che una certificazione di quelle che erano state le nostre analisi sui numeri in Camera di Commercio. Le cause che hanno portato a questo depauperamento delle aziende artigiane sono tante e esulano anche dai problemi territoriali. Deve questa diminuzione alle ristrettezze dell'accesso al credito, alle difficoltà che la burocrazia costantemente mette con i lacci e laccioli alle aziende e quindi sono problematiche che esulano da quello che il territorio può fare. Per quanto riguarda la provincia di Pistoia, appunto si è registrato circa 3.900 aziende in meno, quindi cosa fare in provincia di Pistoia per invertire questo trend? Noi dobbiamo lavorare, come è stato fatto, intanto per cominciare a dare le risposte alle imprese su quelle che sono le esigenze della mano d'opera, portando l'ITS Prime a Pistoia sia una prima risposta veramente convincente verso le aziende, cercando di indirizzare su quelle che sono le realtà che in questo momento hanno necessità, quindi produzione, high-tech, digitalizzazione, servizi alle persone. L'artigianato non deve essere più considerato un lavoro di serie B, oggi le imprese artigiane sono imprese veramente con tanta tecnologia e dove ragazzi e donne possono trovare la loro realizzazione, quindi partiamo dall'ITS e proseguiamo in questo modo per dare risposte a quelle che sono le richieste del territorio. Mentre dalla parte che riguarda tutta la versione, i comparti dei servizi alle persone, della digitalizzazione, vediamo che le aziende hanno molte richieste e voglia di investimento. Grazie alle vostre segnalazioni che sono numerose, questo ci fa piacere, spesso e volentieri veniamo sul posto a constatare di persona com'è la situazione e come sono le vostre richieste rimostranze. In questo caso siamo andati vicini a alcuni cimiteri comunali pistoiesi. Sono ben 48 i cimiteri all'interno del comune di Pistoia e alla nostra redazione arrivano spesso segnalazioni per lo stato di abbandono di alcuni camposanti. Abbiamo fatto un soprallogo al cimiterio comunale che da anni ha alcuni tratti del parcheggio decisamente sconnessi, ma anche all'esterno sono pessime le condizioni del manto stradale. Io da anni che frequento questi luoghi e qui la situazione principale è entrata e uscita dai parcheggi è drammatica, quindi ora che è asciutto, quando poi piove sembra di entrare in un lago e quindi diventa veramente problematica. Allora secondo me se nessuno l'ha mai segnalato io credo che sia l'ora di metterci le mani e provvedere a rimediare almeno nel migliore dei modi. Voleva mettere all'attenzione anche l'ingresso con la strada di Sestata? Sì anche l'ingresso perché la strada di Sestata davanti al cimiterio della Misericordia fino all'ingresso dei parcheggi e anche fino a dove si deve salire per andare sul viale Alcadia ci sono delle buche non indifferenti che meriterebbero di essere quantomeno attenzionate. Quindi chiederebbe per rispetto anche a chi purtroppo è sepolto nel cimitero un po' più di attenzione, basterebbe un piccolo intervento? Certamente, anche per il rispetto dei defunti perché sia l'ingresso e l'uscita dal parcheggio ma il degrado generale che c'è anche all'interno del cimitero insomma mi fa ribrezzo a vederlo. E' quasi finita l'attesa per grandi e piccini, anzi piccini e grandi, per la festa di San Bartolomeo a Pistoia domani e dopodomani in scena. Festa dei bambini, festa di fede, di devozione e tradizione popolare sono tante le dimensioni della festa di San Bartolomeo che sarà celebrata a Pistoia nel giorno della Vigilia del giorno dedicato all'Apostolo e sabato 24 agosto. Due momenti durante i quali si alterneranno occasioni liturgiche e di divertimento tutto attorno alla chiesa di San Bartolomeo e al mercato di pippi e giocattoli. Il cuore della festa saranno le unzioni che tornano ad essere individuali dopo le modifiche imposte al rito a seguito della pandemia negli ultimi anni e che saranno svolte nel giardino alle spalle della chiesa dove invece saranno tenute in caso di maltempo. Il rito oramai parte del DNA dei Pistoiesi risale alla metà del 1400 con l'arrivo in città dei canonnici lateranensi dell'Ordine di Sant'Agostino. Unzioni con le quali si chieda il Signore la liberazione dal male per intercessione di San Bartolomeo Apostolo e di Sant'Ubaldo Vescovo. I festeggiamenti si apriranno così alle 17.30 della venerdì con i primi vespri e la benedizione dell'olio per poi proseguire alle 19 con la celebrazione della Messa della Vigilia. Dalle 18 si trarranno poi le unzioni per proseguire in momenti diversi sino a sera. Sabato alle 10 la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli, con le unzioni che proseguiranno su varie fasce orarie per tutta la giornata sino alle 23. L'altro voto della festa sarà quindi il mercato, ricco di banchi con giocattoli e dolci come la tradizionale corona di San Bartolomeo, composta da grossi biscotti di pasta frolla chiamati pippi alternati a confetti, caramele e cioccolatini che viene messa poi in collo ai bambini. A proposito di pippi, vediamo. La festa di San Bartolomeo, apostolo protettore dei bambini, è uno degli eventi più attesi dell'estate pistoiesi. Si celebra il 24 agosto, una celebrazione molto sentita e partecipata dalla città, che alterna momenti liturgici a momenti di divertimento dedicati ai più piccoli, con la presenza nell'area di piazza San Bartolomeo, del mercato di giocattoli e dolci. La corona ne è il simbolo, una collana di grossi biscotti di frolla chiamati pippi alternati da confetti e cioccolatini. Al centro la tradizionale medaglia, una golosità tipicamente pistoiese. Ma come nasce questo gustosissimo dolce? Per saperlo siamo andati da chi di dolci se ne intende. Il segreto è proprio la tradizione, si vede quanto la gente tiene comunque a rispettare la tradizione, a quanto tenga comunque a regalare una corona a nipoti, ai figli e quante anche nuove generazioni stanno apprezzando e comunque gli piace l'idea di poter essere anche loro promotori della tradizione futura. Gli ingredienti che ci metti, quali sono? Una pasta frolla? Sì, è una pasta frolla e il burro è quello che fa il protagonista principale, più che altro si utilizza materie prime d'eccellenza, quindi siamo sempre alla ricerca di materie prima di qualità e fortunatamente nel biscotto si sentono. Beh, c'è il burro, il latte, il miele, poi c'è la farina che è quella proprio per i biscotti, poi usiamo anche il lievito, ma principalmente credo che sia anche il fatto che si usi il latte e il miele perché ammorbidisce l'impasto. Siete in piena produzione? Sì, sì, questa è la settimana proprio piena. Quante ne avete già fatte? Circa una trentina tutte, ora molte le ho già vendute perché alcuni le vogliono in anticipo, anche perché le fanno come regalo, quindi o le spediscono o le portano a parenti e amici. Questa è una tradizione che non muore? No, non credo proprio perché piace a grandi e piccini. Andiamo in montagna per la Sagra di Mezz'Estate di Cutigliano che festeggia proprio in questi giorni il cinquantesimo anniversario. Che traguardo straordinario per la Sagra di Mezz'Estate a Cutigliano. Raggiungere il cinquantesimo anniversario è davvero un'impresa notevole, un vero e proprio Nozze d'Oro per questa amata tradizione locale. Questo dimostra non solo la dedizione degli organizzatori, ma anche l'importanza di questa festa che ha per la comunità nel corso dei decenni. Cinquantesima edizione della Sagra di Mezz'Estate, le Nozze d'Oro. Siamo arrivati, siamo molto orgogliosi di essere gli organizzatori di questa manifestazione. Saranno cinque giornate ricche di eventi, musica, gastronomia. Vi invitiamo a venire al piazzale di Cutigliano dalle dieci la mattina fino a mezzanotte con tanta musica e veramente tanti eventi. È una manifestazione ormai consolidata da tantissimi anni, da cinquant'anni. Si rinnova tutti gli anni con qualche novità. Quindi teniamo ancora duro per portarla avanti il più possibile. È la festa più importante di Avetone Cutigliano, quindi su questo cerchiamo di dare tutto il massimo sforzo. Noi qui rappresentiamo la neonata associazione Fabio Danti e quindi sostituiamo l'ex scuderia Ferrari nell'attività di ristorazione della Sagra. Abbiamo anche tantissime novità fra i nostri banchi, abbiamo i nostri affezionati che vengono tutti gli anni a allestire il loro banco, ma abbiamo anche tantissime novità a standisti che vengono da tutta Italia, dal nord fino al sud, che ci hanno raggiunto in questi giorni per allestire. Abbiamo tantissimi gruppi, il gruppo della cover band degli 883 e di Giovanotti che animeranno le serate di venerdì e di sabato sera con a seguire due DJ che animeranno la notte della Sagra di Mezz'Estate. Tutto esaurito per il Porrettana Magic Express La magia sale a bordo del Porrettana Express, un viaggio, quello in programma il prossimo 15 settembre, che rapidamente è andato sold out. Un tutto esaurito che conferma l'appeal del progetto di valorizzazione della storica linea ferroviaria e della montagna pistoiese. Il Porrettana Magic Express, come sarà per l'occasione ribattezzato il treno, viaggerà così da Pistoia, destinazione Porretta Terme. Un tema veramente interessante che ha visto il sold out immediatamente con biglietti acquistati da tutta Italia e quindi già anche il prossimo anno penso che l'idea di Pistoia Magic Porrettana Express possa essere riproposta. Un viaggio che nello spirito del maghetto più famoso del mondo, Harry Potter, che proprio su di un treno a vapore giungeva alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, narrata in un fortunato ciclo di romanzi lui dedicati, vedrà i piccoli passeggeri apprendisti maghi accolti da attori che daranno vita ai maestri della scuola per maghi, proponendo poi uno spettacolo interattivo annunciato come unico. All'arrivo a Porretta il programma proporrà poi uno spettacolo di magia al cinema del paese a cura degli artisti di Pistoia Magic, Francesco Micheloni, Tiziano Cellai e del Magoleo. I più piccoli saranno infine i protagonisti dell'ultimo appuntamento annuale dei viaggi del Porrettana Express, sabato 21 settembre. Sempre da Pistoia partirà infatti il treno Kitz, destinazione Pracchia, con animazioni per bambini e soste lungo il percorso per visitare, nel segno della riscoperta dei luoghi della tradizione della montagna, ferriere, ghiacciai, mulini e carbonaie che compongono il polo museale dell'ecomuseo della montagna pistoiese. Ci rivediamo dopo una piccola pausa e la pagina sportiva.